Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero svolgersi a porte chiuse se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. L'ha dichiarato il primo ministro giapponese Suga, affermando che gli spettatori potrebbero essere esclusi dagli eventi che si tengono la sera o in grandi luoghi se dovesse peggiorare la situazione pandemica. La nostra priorità massima, ha dichiarato, è proteggere il popolo giapponese. I contagi stanno aumentando a Tokyo e in altri luoghi e le persone chiedono il rafforzamento delle misure di prevenzione.